E' l'ultimo, l'infone? Ah ok, no, io con questo coso qua, sì, adesso lo capisco. La marchina è... La voce tra i dietro di lei. Se vuoi fare le foto, Pietro, prendi. La voce tra i dietro di lei. La voce tra i dietro di lei. La voce tra i dietro di lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.